La metacognizione viene descritta come la capacità di riflettere sulle nostre rappresentazioni mentali per comprendere i nostri processi cognitivi, quindi ottimizzare l'apprendimento. Ma cosa intendiamo per riflessione e metacognizione all'interno del nostro modello? Intendiamo tutti quegli eventi di apprendimento che stimolano il ragionamento sul processo che ha provocato apprendimento, quindi quando e come si è svolto, quali sono le relazioni tra le componenti del sistema, quali risultati ha portato e come potrebbe essere migliorato. Numerosi sono gli studi che sottolineano come incoraggiare riflessione e metacognizione significhi stimolare le abilità di autoosservazione e l'individuazione di migliori strategie di apprendimento. Le attività che stimolano riflessione e metacognizione possono essere varie e spesso sono abbinate o conseguenti ad altre attività che stimolano consapevolezza e riflessione sul processo. Il docente può per esempio chiedere agli studenti di creare mappe concettuali legate al processo di apprendimento nel suo complesso, può organizzare attività di riflessione legate all'acquisizione di abilità trasversali, spostare la riflessione sui collegamenti con altre discipline o sull'individuazione di modelli trasferibili in altri contesti. Vediamo qualche esempio partendo dal contesto tradizionale. A valle di una serie di lezioni che comportano la collezione di contenuti a bassa interattività, il docente può proporre agli studenti un test di retrieval online a sincrono che permetta loro di comprendere quanto è stato realmente appreso e memorizzato. Attraverso sistemi automatici potrebbe offrire feedback ricchi che aiutino gli studenti a capire come colmare le lacune supportando e ottimizzando il processo di apprendimento. Abbiamo visto un caso semplice, ma le attività di riflessione e metacognizione sono tanto più utili quando gli eventi di apprendimento sono vari e articolati, quindi quando il fermarsi a riflettere su quanto sta avvenendo permette di non perdere pezzi fondamentali. Ad esempio, pensiamo ad un corso costituito da alcuni cicli. All'interno di questi cicli, da una parte, gli studenti devono seguire alcune lezioni in presenza in cui collezionano contenuti ad alta interattività. Dall'altra, integrano quanto appreso attraverso una parte di un MOOC, cioè svolgono un'attività di collezione di contenuti a bassa interattività, in modo asincrono. Nel frattempo, nel flusso del corso, svolgono esperienze pratiche in un laboratorio virtuale. Come aiutare a tenere insieme tutti i differenti pezzi e ottimizzare il processo di apprendimento? A valle della chiusura di un ciclo, gli studenti potrebbero partecipare a discussioni online sincrone in piccoli gruppi, producendo un breve report sui principali concetti, processi, metodi appresi e sperimentati, ovvero su come e quando i contenuti collezionati abbiano supportato l'attività pratica. Ciò permette agli studenti di riflettere sul processo nel suo complesso e di individuare i collegamenti che nel passaggio dalla teoria alla pratica potrebbero non risultare così scontati ed andare un po' persi. Attenzione, le attività di riflessione e metacognizione sono utili anche quando i risultati di apprendimento vanno ben oltre l'acquisizione e l'applicazione di concetti, ma richiedono la messa in campo di competenze e abilità trasversali. Prendiamo l'esempio precedente e immaginiamo che ogni ciclo venga concluso con un'attività di produzione e ricerca svolta in gruppo, online, in modalità sincrona ed asincrona. Per esempio, interrogando sistemi di intelligenza artificiale per lo sviluppo di un piccolo progetto di ricerca. Solitamente questo tipo di evento richiede la messa in campo di conoscenze sia legate al tema specifico sia multidisciplinari. Non solo, richiede la capacità di lavorare in gruppo, un buon livello di autonomia, di problem solving e così via. Il docente potrebbe quindi chiedere ai gruppi di riflettere sia sui collegamenti tra le varie discipline, sia sul processo svolto come gruppo e su come i singoli lo hanno supportato. In questo modo stimola la riflessione sia sulle conoscenze e competenze transdisciplinari acquisite, sia sulle abilità trasversali potenziate durante il corso. Mettere su carta o visualizzare tutte queste riflessioni porta a una maggiore consapevolezza sul livello di apprendimento raggiunto e quindi sui passi da svolgere per ottimizzarlo.